Ciao ragazzi, sono Federico Trondini. Oggi per voi un circuito per migliorare la stabilità e il controllo delle gambe. Pronti? Via! Parto con il primo esercizio. In questo caso ho bisogno semplicemente di un supporto alto a meno 40 cm. La gamba davanti è ferma, il ginocchio è perpendicolare alla caviglia, il busto vediamo che è dritto e lo sguardo è avanti. Strategia, quella dello sguardo, utilissima per mantenere l'equilibrio. Tengo la posizione 20 secondi, dopodiché mi riposo qualche secondo e parto con la seconda posizione. Qui appoggio la caviglia di una gamba sopra all'altra gamba, mi sollevo e tengo la posizione per 20 secondi. Anche in questo caso vediamo il ginocchio della gamba davanti è perpendicolare alla caviglia, la schiena è dritta e anche in questo caso cerco di fissare un punto con lo sguardo per potenziare l'equilibrio. Tengo 20 secondi, dopodiché con la stessa gamba faccio 4 balzi avanti che possono essere più o meno lunghi, mi fermo e con le mani vado a toccare la punta del piede davanti. Contemporaneamente la gamba dietro si solleva verso l'alto e il busto è dritto. Sguardo sempre avanti. Finito con una gamba, prendo un po' di fiato e vado a lavorare con la gamba opposta. Finito con una gamba, prendo un po' di fiato e vado a lavorare con la gamba opposta.